L'Europa deve lavorare ad un Energy Recovery Fund, come chiesto dal Presidente Conti ormai sette mesi fa, per aiutare le famiglie e le imprese che sono alle prese con un caro bollette insostenibile. Inoltre serve promuovere una conferenza internazionale di pace per risolvere la crisi russo-ucraina che è sempre più preoccupante. Per questo se i cittadini decidessero di scendere in piazza per invocare una svolta negoziale, il Movimento 5 Stelle è pronto a fare la sua parte e sarebbe al loro fianco. Senatrice, scendere in piazza anche per le brigate delle cittadinanze.